Il peggio, a giudicare dalle telefonate degli automobilisti in coda, deve essere stato attorno alle 11, quando il Sempione faticava a sopportare il serpentone di auto diretto al punto tamponi allestito la scorsa settimana a Gallarate all'interno dell'ex deposito dell'aeronautica, eppure la 336 pativa rallentamenti all'altezza dello svincolo che porta su Viale Milano. Fino oltre a mezzogiorno, lunedì 3 gennaio, primo lunedì di attività del centro è appena aperto, la viabilità ha dato segni di criticità. In queste immagini il Sempione attorno alle 12, con il traffico fermo allo svincolo della statale 336 e la coda di mezzi fino quasi a rondò con l'aereo nel senso opposto, per chi dal centro a città cercava di raggiungere l'hub per i tamponi, e tra i commercianti dell'asse su cui insistono molte attività e negozi c'è già chi chiede correttivi. Servono soluzioni in maniera rapida, e l'appello lanciato da quanti cercavano di lavorare nonostante la paralisi. Grazie a tutti.